con il destro che gol con l'otto che gol con il destro guarda mia che gol Siamo qui in diretta dal Kennedy Stadium di Napoli Lady's Cup quarti di finale eliminazione diretta 500 miles a C Valchirie formazione che fanno il loro ingresso in campo che ora si chiedono lì al centro del Monte Erboso per il saluto ai propri tifosi formazioni che passano a darsi 5 e che poi si schierano a parte invertita del campo per dare inizio al match e abbiamo l'incontro Sandro Stanziano che ora chiama a sé i due capitani che salteggiano a poco la valla per campo ragazzo nuovissima e poi un'altra cosa ricordate eventualmente rigori aspettate riprendere anche io questa cosa un po' macabra ok perfetto ora possiamo chiudere il collegamento un saluto Dabba Teng senza il primo tempo a C Valchirie 500 miles quarti di finale eliminazione diretta Lady's Cup tornare dal gato SK 1-0 500 miles che passano in vantaggio dopo appena 5 secondi al fischio di inizio e ora passano a seguire tutta la prima parte dell'incontro la musica suena la noche de cristales belleza encerra el amor me quema la musica suena la noche de cristales belleza encerra la musica suena belleza encerra bébé Grazie per la visione! 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 La guitarra della luna, la guitarra esperanza Luna, 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 tu, luna, tu esperanza Luna, 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 tu, luna, tu esperanza Luna, 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 tu, luna, tu esperanza Luna, la!, la, tu, luna, tu esperanza